Era da circa un mesetto che c'erano avviati in dei discorsi tra il mio agente e il Pescara perché il Pescara era la ricerca di un portiere aspetto per completare il pacchetto. Poi è passato un po' di tempo anche per via delle uscite che doveva fare il Pescara dopodiché finalmente c'è stata la fumata bianca e con grande entusiasmo sono riuscito ad approdare questa piazza così importante. Io penso che in tutti i ruoli bisogna lavorare con un briciolino anche di competizione ma non la competizione per andare a togliere qualcosa di personale a un compagno ma solamente per alzare il livello della squadra. Quindi se per caso anche uno di noi tre si sentisse sicuro del posto della gerarchia che in quel momento va credo che a questo punto il Pescara di certo non avrebbe grossi giovamenti. Si lavora sempre per rosicchiare una posizione o comunque per essere stimolato per avere un qualcosa per alzarsi la mattina per cui combattere ma questo vale dai portieri a ogni singolo componente della squadra. Il gruppo ho trovato un gruppo unito, coeso, c'è grande unità di intenti tra i giovani e i vecchi, questo parlo sull'aspetto proprio prettamente caratteriale di unione. Poi calcistico ho trovato un gruppo dove la caratteristica principale è che credo che sia proprio la qualità una squadra di qualità alta secondo me per la Serie B e la Serie B impone grande equilibrio anche nel fare previsioni a lungo termine perché è un campionato così strano e molto 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 livellato quindi grosse previsioni non mi sento di farle perché in passato vieni troppe volte smentito sta di fatto che è una squadra che se continua a prendere certezze anzi deve continuare a prendere certezze a lavorare su certi concetti sicuramente si può togliere grandi soddisfazioni fino a dove non lo so speriamo più alto possibile.